Probabilmente è più difficile perché comunque una donna all'interno della famiglia ha dei compiti fisicamente più impegnativi di quelli dell'uomo, almeno in una concezione tradizionale. Poi penso che nelle giovani famiglie le cose stiano cambiando molto, però nelle famiglie della mia generazione probabilmente certi compiti proprio rutinari di cura della casa richiedono anche un impegno fisico che probabilmente per una donna con BPCO è più faticoso da portare avanti e quindi sì, penso che da questo punto di vista possa essere più difficile per una donna. Lo sente di più, l'avverte di più, perché noi donne siamo sempre state, non dico l'angelo del focolare, ma quelle che puliscono la casa, fanno da mangiare, fanno la spesa, lavorano, io ho sempre lavorato fuori, mentre un uomo solitamente adesso le nuove leve, fortunatamente c'è le nuove mamme che hanno capito che bisogna aiutare i figli a essere indipendenti, i miei figli sapevano fare anche l'uncinetto. Un uomo è sempre stato abituato a essere più servito, a non vedere le cose, se gli le dici si offendono, c'è per malosità, c'è risposte non carine, quindi ecco, io ho visto che quando si sono ammalati gli uomini sono sempre stati più curati delle donne, hanno sempre avuto vicino qualcuno o la moglie o l'amico o la compagna e questo anche viene più compreso, mentre la donna insomma non gli si dà quell'importanza che ha questa malattia o qualsiasi altra malattia, comunque questa è invalidante.